Un anno e mezzo dopo la strage del bus in cui morirono 40 pellegrini di Pozzuoli precipitate dal viadotto Acqualonga sulla A16, la procura di Avellino ha chiuso le indagini. 15 persone sono state raggiunte da avviso di garanzie, tra queste anche Giovanni Castellucci, amministratore delegato di autostrade per l'Italia e il direttore generale della società Riccardo Mollo. Le ipotesi di reato formulate dalla procura sono disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Ai due manager si aggiungono 10, tra dirigenti e funzionari di autostrade, più il proprietario del bus precipitato dal viadotto Acqualonga, Gennaro Lametta e due dipendenti della motorizzazione. A carico degli ultimi tre c'è anche l'accusa di falso in atto pubblico per aver contraffatto il documento della revisione del veicolo. Il bus dopo la rottura dei freni cominciò la folle corsa verso il viadotto della morte e dopo 800 metri sfondò il guardrail e cade nel vuoto nel tratto autostradale tra Monteforte e Baiano. Fu una strage, solo nove furono i superstiti tra i passeggeri, quasi tutti i bambini. Le vittime erano tutte i pozzuoli di rientro da un pellegrinaggio a Pietrelcina. Per gli inquirenti di Avellino guidati dal procuratore Rosario Cantelmo ci sarebbero precise responsabilità della società autostrade legate alle condizioni delle barriere di sicurezza del viadotto. Un elemento questo che sarebbe stato confermato anche dai numerosi sopralluoghi e dalle perizie tecniche che si sono susseguiti dopo la strage. Per la procura tutti i dipendenti della società autostrade indagati avevano l'obbligo giuridico di impedire il gravissimo incidente stradale. Agli indagati della società autostrade si aggiungono poi il proprietario del bus dell'agenzia Mondotravel, Gennaro Lametta, il funzionario della motorizzazione Vincenzo Saolino incaricato delle operazioni di revisione e Antonietta Cerriola, assistente amministrativo dello stesso ufficio. Tutti arrestati all'inizio del luglio del 2014 e accusati anche di falso in atto pubblico. Il bus che è caluto nella scarpata viaggiava con un documento fasullo. La revisione non era mai stata effettuata.